...è la tua pasqua di Facebook? Ce l'ha la conoscenza? Bombolo, 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 raga non funziona, porca noia Ma sai quella del... è tu un albero? No E' lui che te la racconto Che basta ad oggi ragazzi, bravi, 02627105 oppure scaricate l'app dello zoo, lo zoo di 105 app, oppure andate a fare il culo Carissimi ascoltatori, partecipate attivamente con noi Se avete voglia scrivete anche voi le tre sigle dello zoo di 105 o i vari stacchi pre pubblicità Scatenate la vostra fantasia e ricordate Non lo facciamo perché tipo e spai ne sono accorto di idee Ma solo per farvi sentire sempre di più, uno di noi Mandate i testi delle pre sigle e stacchi pubblicitari a popipopizot.com E a grazie, e a presto Ancazzini scrivendo e se ricordo Diego, ti spiego Diego, non so come fare con il mio manificio Ciò che corre la smarrita Ragomitoliamoci un doblo cargo E portiamoci questo vomito, tezzilo, cucilo, rammendo Entrampi i sette mani Fino al 30 novembre il doblo cargo è tuo da 8.900 euro di tax In caso di carità e in più sui veicoli senza consegna 1.000 euro di extra bonus Adesso sì che me lo spiego Getta l'angora in concessione Grazie a tutti